La CMB è in Serie A! Un sogno diventato realtà con la vittoria in trasferta sull'atletico Chiaravalle, la CMB Futsal Team è tornata in Serie A. Per la squadra lucana del comprensorio medio Basento è risultata decisiva la rete messa a segno da Cenedese. Nella gara d'andata il confronto play-off tra le vincitrici dei rispettivi gironi si era concluso con il punteggio di 2-2, pertanto la vittoria in terra marchigiana consegna al club lucano la possibilità di disputare il prossimo campionato nell'Olimpo del calcio a 5 femminile. Grande soddisfazione da parte del presidente Rocco Auletta che non nasconde l'emozione per il prestigioso traguardo raggiunto. È stata l'ennesima giornata bellissima nella storia del CMB, una giornata veramente emozionante perché con la vittoria a Chiaravalle delle ragazze abbiamo raggiunto nuovamente il vertice del Futsal Italiano, riportando il CMB in Serie A così come era successo qualche anno fa con il CMB maschile. A tal proposito voglio ringraziare le mie giocatrici, tutte, lo staff tecnico, i miei dirigenti che mi hanno supportato e sopportato in tutti questi anni, sia nel maschile che nel femminile, con tanto sacrificio. Perché fare sport in Basilicata non è semplicissimo ed aver portato due volte sia nel maschile che nel femminile il CMB ai vertici del Futsal Nazionale non è molto semplice.